Ciao a tutti da Salvatore, grandissima sorpresa, mi trovo con un maestro, il re del filipanettone, possiamo dire, tu sei il maestro, il teacher, il duca, ecco il duca che non è poco, allora vogliamo fare un saluto a tutti gli amici tuoi, tutti i tuoi fan e ovviamente vi invito a Natale da sempre, buone vacanze, buone feste, buon Natale, questo lo fate di sicuro, dai parenti mi raccomando andate a vedere Natale da sempre, Natale da sempre da 14 dicembre, ve lo consiglia anche in tutta Italia, che dire di più, io intanto ti rinnovo una sorpresa che facciamo spesso, la manina del Salvatore te la meriti, ormai sei un esperto, te la meriti pienamente, ti ripascio tantissimi complimenti e auguriamo buon Natale a tutti quanti, come ho già detto prima, buon Natale, grazie, ciao!